Comunque, io la butto lì, la butto lì, la butto lì, se entro un settimane, ok? Quindi oggi è il... dove cazzo è il calendario? Oggi è il 31 di ottobre, quindi il 15 di novembre, se siamo e raggiungiamo, clippate, clippate perché ora ve lo dico, se entro il 15 di novembre, raggiungiamo i 50.000 su Twitch, io ragazzi faccio la release delle bestie, tre colorazioni, fit, pauroso, io ragazzi le sparo fottutamente sul mercato, dopo ragazzi organizziamo le serate in discoteca tutti con la bestie, se vabbè, si può fare, si può fare, ragazzi, chi vuole può fare, io ve la butto lì, sì ma non, sì ma non costa, non quanto costa produrne che cosa cazzo vuol dire, comunque, vediamo nel senso che, dopo ne parleremo, ragazzi.